La Federico II ha conferito il dottorato di ricerca o non riscausa in tecnologie e sistemi di produzione allo scienziato tedesco Raymond Nogbauer. Alla cerimonia presenziata dal rettore dell'Ateneo Napoletano Gaetano Manfredi hanno partecipato anche Fabio Bozza, coordinatore della scuola di dottorato in ingegneria industriale e Luigi Carrino, del dottorato in tecnologie e sistemi di produzione. A tenere la laudazio accademica è stato il professor Luigi Nicolais, presidente del CNR e professore merito della Federico II. Raymond Nogbauer si è laureato in ingegneria meccanica presso l'Università Tecnica di Dresda in Germania dove ha conseguito i dottorati in ingegneria nel 1984 e in scienze tecniche nel 1989. Nel 1990 ha iniziato la sua carriera universitaria presso la stessa università tedesca. Ascoltiamo Roberto Teti, professore di tecnologie e sistemi di lavorazione della Federico II. La carriera di Raymond Nogbauer è stata brillantissima fin da prima di diventare presidente del Fraunhofer. Naturalmente ha giustificato questa nomina a presidente del Fraunhofer e giustifica la nostra proposta di conferimento del dottorato di ricerca anche in funzione delle numerose collaborazioni da lui avviate con me e con altri colleghi di Ateneo fin dall'anno 2000. Grazie. 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 Grazie.